gioca e vinci con noi al ventesimo l'iniziativa personale di Possenti che prova a sfondare i guantoni di Valeriani la stella esce dal proprio torpore e spaventa non poco i padroni di casa con il tiro di Vukai che viene stroffato sul secondo palo minuto 43 di Giglio sfonda sulla destra e le sue pallone in mezzo trova il rimorchio di Masciullo che per re poco non c'entra il bersaglio grosso sugli sviluppi del calcio d'angolo seguente il pallone di cattiva lettura da parte del portiere ospite i piedi di Fedeli mettono la sfera nel sacco portando i vantaggi suoi Savignanese 1 stella 0 la ripresa non cambia almeno inizialmente il proprio copione con Bullini che questa volta fa volare da campione Valeriani gli ospiti non ci stanno e rimettono in parità il match ci pensa l'esperto Andrea Renzi a trovare il bersaglio grosso sul secondo palo dove non può nulla l'incolpevole Papi minuto 63 siamo in corsia di sinistra fa fuori un paio di avversari il centrocampista della Savignanese poi la palla limite calciata da Fedeli non trattiene il pallone il portiere ospite Valeriani che poi travolge un avversario e concede il calcio di rigore la massima punizione per la Savignanese sul dischetto vale esperto a Fedeli che spiazza il portiere e riporta in vantaggio i suoi i bianchi vogliono chiudere il match e provano a farlo ancora con Zenghini che sfodera un tiro bellissimo che non scende per poco sotto l'incrocio dei pali la firma sull'incontro la mette Bollini che si invola da solo contro la portiera avversario trafigge con un tunnel palla tra le gambe e risultato ancora invariato Savignanese 3 stella 1 il colpo del capoolo infligge Genghini che con il suo piedone mette la sfera sul secondo palo si decretta definitivamente la fine del match si festeggia in casa Savignanese ora testa domenica prossima per la gara interna contro la Frugge Sport